Certo, posso capire la situazione, posso capire i nostri fan perché il risultato non era davvero bene. Siamo fuori della Coppa. Quindi posso capire i nostri fan, ma sono preoccupato al momento per i nostri risultati. Non davvero davvero bene, si vedeva bene, se un'occurrente a un'occurrente, a un'occurrente, e poi ci qualcosa di diverso. Il risultato che è un'occurrente, in questo modo se vuole un'occurrente, È un'occurrente, È un'occurrente, A volte, sì. Quindi, la gente pensa che è sorprendente. Quindi, la gente pensa che è f***bendibile. No, for everything there is the first time. Well, we lost the final to Chelsea last year and my last game was a loss to Chelsea in the FA Cup final. That was my last game for United. Last time we beat them in the cup was 20 years a year ago apparently. So we do have a tradition in the cup, we want to get to the final.